Eccoci buonasera e la politica in prima pagina. La politica e l'erebus governo con due aspetti. Uno, il PD che esce dall'angolo. Vi faccio vedere il fatto quotidiano. Dopo 45 giorni in freezer si scioglie il PD. Il no ai 5 stelle è già diventato ni. Anche su questo apre avvenire, lo vediamo subito, il PD riapre i giochi. E' proprio l'apertura perché dopo che Di Maio ha aperto il PD, il PD Martina apre su tre punti programmatici. E poi secondo punto della politica che occupa le prime pagine dei giornali, la tanto attesa decisione del presidente Mattarella che sta per affidare il mandato esplorativo la più papabile a detta di tutti, la presidente del Senato Elisabetta Casellati. Ecco infatti la Repubblica, l'avete vista, il governo oggi tocca a Casellati. Vedremo naturalmente cosa succederà.